Vi ricordate i visitatori? Dallo stesso regista Jean-Marie Poiré, un'altra commedia d'azione che ha sbancato i botteghini di Parigi. Via, via, via! Soldi proibiti! Sta tranquillo, ero un grande amico di papà e ho giurato di occuparmi di te. 3 milioni di francesi lo hanno eletto il successo del momento. Con mia moglie abbiamo ereditato questo. Che cos'è? Sono buoni da 15 milioni di dollari pagabili in ogni banca di qualsiasi paese. Da Hong Kong a Parigi, un'avventura esilarante per intascare una valanga di soldi proibiti. Sono fatti suoi se lei è un bambino a Hong Kong. Il prete ebbe una relazione con una cinese poco prima di essere ordinato. Protegge un prete che ha fatto un bambino. Sei una gran gnocca in lutto. Nemmeno so perché sono in lutto. Che cosa vuoi da me? Voglio riportarlo da sua madre. Ecco perché mi trovo qui. Signor prete, sono la mamma. Non vorrei dirle, in caso di bisogno, posso rimpiazzare la regina così. Io ora mi abbasso! No! Mamma! Ma sono andati via. Ma che combinate la testa? Ci siamo nascosti perché un cinese era entrato nel suo ufficio. Sì, vorrei che mi spiegassi il rapporto tra tuo figlio e quella sparatoria. La mamma del bambino è nipote di un capo della tria del cinese. Non è mai stato mio zio. Gérard Depardieu, l'eroe di Sirano de Bergerac. Christian Clavier, il comicissimo Jean Coyon dei visitatori. Eva Grimaldi ed Eva Erzigova più top che mai. Hanno peccato il prete, il prete. Nel vostro appuntamento di Pasqua. Soldi proibiti. Lookin' after you.